Grave lutto nel mondo del bodybuilding è morto infatti Sean Roden. Aveva solo 46 anni d'età, era giovanissimo, era il campione di bodybuilding per eccellenza, fu Mr. Olimpia nell'anno 2018, era il campione più anziano di sempre, se ne va, ripeto, solo a 46 anni di età. Quell'igine giamecane è stato purtroppo stroncato da un infarto che gli ha preso e di ciò ci informa l'allenatore Chris Aceto, una vicenda triste, macabra, allucinante. Bodybuilder dagli anni 90 ebbe veramente grandi capacità, se per inventarsi questo ruolo in maniera perfetta, soprattutto magistrale, un trionfo incredibile per la sua carriera. Ma poi arrivò anche una bega legale, una denuncia per molestie sessuali da parte di un altro bodybuilder, proprio dello Utahi, però non è stato mai condannato per quel reato, quindi non c'è stata mai una condanna nei confronti di Rod, di Roden, di Sean Roden. Sean Roden ci lascia, ripeto, un grande uomo, il campione più anziano di sempre, un grande uomo sicuramente, però a volte anche chi fa questo tipo di lavoro, chi fa questo tipo di mestiere, si ritrova spesso e volentieri a morire per colpa di un infarto, infarto che in lui purtroppo è arrivato come normale che sia. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Sean Roden, riposa in pace, Amen.